Buongiorno, buongiorno davvero a tutti. La puntata di oggi, come sapete, di vicini di casa, c'è sempre una dedica all'inizio della trasmissione, vorrei dedicarla prendendo spunto da un libro che mi ha portato il professore Ermanno Leo oggi, con un libro che ha una dedica particolare, io vorrei dedicarla ai bambini e a tutti coloro che regalano un minuto, un mese o tutta la vita a proteggere il magico mondo dei bimbi, non sono in tanti, ci auguriamo che non siano sempre di più, visto come vengono trattati i bambini, di questo altro parleremo nella puntata di oggi, voglio subito presentarvi gli ospiti, alla mia destra un amico di vicini di casa, professor, commendatore, cavaliere del lavoro, Danilo Maggi, giornalista, cavaliere del lavoro, perché sei un grande lavoratore, Danilo Maggi, opinionista, autore di un libro delizioso, insieme a Claudio Pinna, Sveleni, ironiche letture per riconoscersi, con una prefazione di Carlo Castellanetta, edizioni L'arte di vivere, che trovate però solo, poi ne parleremo attraverso internet, perché bisogna svelenire un po' l'ambiente, no? Eh beh, l'ironia è la base di tutto, dei rapporti, dell'ironia e come posso dire, la grande pazienza, di fatti Joelle Vassal, che abbiamo qui, che è un'imprenditrice nel settore dell'area benessere, molto famosa anche nel mondo dello spettacolo, perché lei aiuta tutti anche quelli dello spettacolo a stare in forma, che ha avuto, come posso dire, anche sì, e ha avuto la pazienza di sopportarti, e allora, Joelle Vassal, complimenti, ci vuole anche una donna di sopportazione della vita, questi sono affari privati nati d'ufficio, allora, allora è vero, hai ragione, parleremo di benessere oggi, avete capito, anche perché abbiamo alla mia sinistra Alessandra Rovida, buongiorno Alessandra, naturoigienista, e che ci ha portato della Creta oggi. Sì, dell'argilla. Della argilla, chiedo scusa, senza nessuna ambizione, no, naturalmente, di creare niente dell'argilla, mentre il professor Mario Pinna, buongiorno, che non è l'autore di Sveleni, ma è un grande musicista. Grazie, c'è. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Grazie a voi. Katia Greppi, Katia Greppi, mia collega deliziosa, brava, attrice, una volta si diceva showgirl, a me non piace questa definizione, ma è da una roba showgirl, non ho capito cos'è showgirl. Tu che sei stato direttore di uno dei principali settimanali italiani dello spettacolo, onda tv, come la... Oh, showgirl, ma è bello showgirl. Oh, showgirl è un termine mai... No, vero. Non saprei come definirla. Anche perché parliamo italiano. Parliamo italiano. Paradossalmente preferirei subretto. Subretto, sì, perché c'è una grande tradizione, voglio dire. Neanche. Neanche. Da banda osiris... È limitativo. Esatto. Alla carrazza, voglio dire. Esatto. Troppo limitativo. Limitativo. Abbiamo l'onore oggi di avere con noi il professor Ermanno Leo, presidente dell'Areco, dell'Associazione Europea di Chirurgia Oncologica. Lui è il presidente e quest'anno mi ha fatto molto piacere, è uno dei più grandi studiosi al mondo nel settore del cancro arretto ed è stato riconosciuto, lui, la sua associazione, ma lui perché l'ha fondata e l'ha voluto, come un momento chiave della ricerca, dell'assistenza e mi ha fatto piacere la sera dei delegati, caro professore, vederla lì con l'affetto praticamente di tutti gli italiani che hanno voluto contribuire a aiutare l'Areco e questo mi ha fatto veramente un grande piacere. Siamo onorati di averla qui oggi. È lui che mi ha portato il libro, questo bellissimo libro, voglio subito farvi vedere. In fila per sei col resto di due. Che è stato inventato, ha trovato questa copertina. Ce ne vuole parlare di questo libro, professore? Perché con la pubblicazione di questo libro volge a termine, dice l'introduzione, l'omonimo progetto che ha portato alla realizzazione di diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'illustrazione per l'infanzia e al tempo stesso alla tutela dell'innocenza dei bambini e dell'immagine della loro fantasia. Ma è un'idea che è nata poco pochi mesi fa, anche perché tutto quello che noi facciamo nella vita, la valorizzazione è a posteriori, cioè vale quello che lasciamo, non solo quello che facciamo. E quindi tutto il lavoro che noi faremo e stiamo facendo potrà anche non avere una realizzazione attuale, ma sicuramente è finalizzata a chi viene dopo di noi a lasciargli un mondo migliore. Quindi questo vale nell'educazione, vale nell'istruzione, ma vale soprattutto nella salute che magari avrà la speranza che loro potranno avere un mondo con meno attentati di salute di quelli che stiamo vivendo noi, pur avendo già fatto dei passi avanti. Tutto è proiettato al futuro e quindi pensare ai bambini anche in questo modo con tutti questi artisti che hanno voluto regalarci questi disegni che non riuscivano a pubblicare, ma li abbiamo voluti riunire in un'unica pubblicazione. Perché i bambini, leggendo e ridendo, pur non facendo sapere nulla a loro perché non è giusto, però è un modo di far capire di come noi stiamo pensando a chi viene dopo, perché sicuramente sarà per loro tutto quello che stiamo facendo. Se ho andato in sezione, non so cosa ne pensate Danilo, Gioele, tutti, Alessandra, Mario, Katia, che non sempre ci si preoccupi di cosa lasciare i bambini anche del domani, come difenderli, non sempre ce ne si preoccupa tanto, mi dà l'idea. È vero, è vero. Tanto sto sfogliando per fare vedere. È vero o no? È molto difficile. Vedo che non è facile, no professore? No, sono tutte favole, poi sui gatti che è uno degli animali. Non è facile che ci si preoccupi tanto dei bambini. Questo purtroppo è un segnale di civiltà di una società, sono due gli elementi importanti. Si preoccupa in maniera sbagliata. Sbagliata ma soprattutto sono due gli elementi della mattina, io credo che tutti voi quando usciamo per andare a lavorare, io a certe volte ai semafori vedo delle scene bellissime che sono poi il cuore della vita, cioè il nonno con il nipote, cioè la generazione che ci ha dato quello che ci ha dato, che intrattiene quelli che verranno dopo, per lasciare che la generazione di mezzo lavori, produca e si dia da fare. È un connubio quasi che fa da colonna sonora la nostra giornata. Quindi chi rinnega il passato e quindi i nostri genitori, le cose, non pensa a chi verrà dopo, non può costruire una società se non su successi effimeri, ecco perché io parlo dell'importanza di ciò che si lascia e quindi se proteggiamo chi ci ha preceduto e prepariamo per quelli che verranno dopo, credo che avremo compiuto una delle opere più importanti e questa società sarà sotto un giudizio e sicuramente avremo meno scrupoli a preparare un mondo brutto per chi viene dopo e meno egoistico perché se facciamo delle cose poco chi è poco carine, purtroppo la pagheranno quelli che vengono dopo perché nulla si distrugge. La maggior parte di noi pensa soltanto alla vita, al momento senza pensare poi al futuro. Comunque vorrei raccontare un aneddoto carino. Io ho una nipotina che ha sei anni e sua mamma siccome deve preparare uno snack per le dieci per andare a scuola, mia figlia le prepara uno snack con del pane e delle cose semplici. E mia nipotina quando è arrivata a casa dice ma mamma io mi vergogno perché deve andare a mangiare questo snack dietro perché tutti i suoi amici arrivano con la solita merendina con tutti i conservanti e lei dice io mi vergogno mamma io voglio la merendina che hanno tutti. Quella che quando va così scopia che è quella con tutti i conservanti. È un fatto io credo ci sarà poi in fondo prima o poi speriamo a parte che a volte i bambini li trattano così male che basta vedere cosa succede in tanti posti del mondo. Dall'Africa all'Asia cosa capita ai bambini? Già una società che accetta a questa concezione lungi da me l'idea di fare della morale ma voglio dire no? Mi sembra solo guardare certe immagini uno dice ma abbiamo ancora la dignità di uomini, di adulti, di essere umani facendoli morire di fame, trattandoli come li trattiamo. Di fronte a tali e grossi interessi d'altro tipo questo purtroppo è un tema su cui generazioni intere si perderanno senza risolvere purtroppo questo problema. Però le battaglie vale la pena farle, no professore? Una goccia ogni giorno. Eh sì perché incominciare a creare pezzo per pezzo dire ma non molliamo, incominciamo a occuparci ognuno dando il proprio contributo, poi vediamo cosa succede e poi naturalmente e poi io dico che nella vita bisogna sempre pensare che ci sono dei momenti in cui tutto ritorna e l'unica saggezza che possiamo sperare di acquistare è la saggezza dell'umiltà come diceva Thomas Iliott e quindi vediamo di imparare, impareremo secondo me anche oggi. Abbiamo la nostra sigla, no? Abbiamo tenuto per ultima praticamente alla fine del blocco ma oggi è andata così e la voce è quella di Piero Cotto e la canzone l'ha fatta Louis Armstrong. Sigla! Questo programma vi ho offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Sanità Sous-titrage ST' 501 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 l'alimentazione. Io dico che un'alimentazione corretta, la più genuina possibile, è fondamentale. E questo è già un problema. Sono contrario a incriminare un cibo in particolare. Vedi, in Giappone c'era il tumore dell'esofago che era estremamente diffuso, infatti i più grandi chirurghi dell'esofago erano giapponesi, avendo una patologia così frequente erano diventati maestri del mondo, ovviamente. Poi capirono, non è che ci volesse tanto, che loro mangiavano cibi estremamente bollenti, ad altissima... Bollenti. Poi hanno cambiato completamente, hanno abbassato questa gradazione del calore e sono diminuiti nettamente i tumori. Guardi il tumore dello stomaco, che oggi è quasi a livelli bassissimi, era uno dei più importanti come numero, da quando hanno scoperto farmaci, diete, per l'ulcera, che era una precancerosa, anche il tumore dello stomaco è caduto, è sceso. Il tumore del collo dell'utero nella donna, da quando si è istituito il pap test, la donna riesce a farsi visitare, a non aver più vergogna di farsi visitare, a bruciare, diciamo in termini banali come usano dire quelle piaghette, o andare con il laser adesso. Addirittura si interrompe anche in questi casi quella sequenza. Qui tante cose state fatte. E la cosa da sottolineare è che la vita dell'uomo, la vita media, si è allungata terribilmente, in maniera positiva. Quindi questo vuol dire che qualcosa di positivo è cambiato, che la vita è migliorata, l'alimentazione inevitabilmente è migliorata. Siamo una delle nazioni che sicuramente ha più controllo sull'alimentazione rispetto alle altre. Ci sono dei controlli, direi, grazie a tante associazioni, a tante istituzioni. E parla anche di fattore genetico. Però tante volte, per esempio, non sappiamo. Io per un caso che abbiamo avuto nella nostra famiglia, dove il dottore ha detto ma nella vostra famiglia i genitori, eccetera, hanno avuto. Che tante volte noi la cartella clinica dei genitori, magari tu dopo che è successo qualcosa, non la tieni. Invece tante volte bisogna tenerla perché la storia anche della tua famiglia è importante. Beh, direi che al tutto tenete presente che è la prima fase della cartella clinica che viene riempita da un paziente. Esatto, e tante volte uno... E chiede l'anamnesi familiare. Esatto. Ormai è storico questo. Quindi non è un fatto casuale che il medico chieda, interroghi il paziente o presunto tale su quello che è il suo passato. Non solo personale, ma anche familiare. Sì, però delle volte non è che si sa esattamente il motivo per il quale tuo papà, tua mamma è deceduto, eccetera. Sì, però spesso i medici attribuiscono una correlazione genetica ereditaria quando invece la patologia che sembrerebbe accomunata alla storia della famiglia magari ha altre origini. Però è un aiuto. Vuol dire che se c'è qualche caso dobbiamo aspettarci il cancro tutti. No, questo no. Ecco, infatti. Questo è un regalo che per fortuna non esiste. Però che sia un campanello d'allarme di attenzione, questo è un atto dovuto. Beh, certo. Non come il diabete che ha un'alta incidenza di... In ogni caso un sospetto è lecito da parte dei medici su un'ereditarietà. E questo vale per tante cose. Non c'è dubbio. Professore, scusi, volevo chiedere questo. Lei prima ha detto che bisogna fare la gastro e la colon, no? E' quello che ti permette di capire, perlomeno di vedere. La gente, per la maggior parte, perlomeno pensa che questo sia un esame estremamente invasivo e che quindi sia difficile anche sottosopportare, per una serie infinita di motivi che lei evidentemente conosce come nessun altro. Ecco, però oggi è molto diverso. Chi fa questo esame non se ne accorge poi neppure. Beh, direi sì, le tecniche sono cambiate. Sono cambiate. Poi il fatto che se ne fanno di più fa acquisire più esperienza a chi le fa e quindi fa soffrire di meno. È molto meno invasivo di una volta. Direi che sicuramente i metodi di sedazione sono notevolmente aumentati, anche blande anestesie. E più si affaccia ed è già in atto quello che speriamo sia il futuro, quindi la colonoscopia virtuale. Cioè, oggi le tecnologie vanno verso queste ricostruzioni virtuali attraverso delle TAC molto speciali, per cui si può arrivare anche a selezionare i casi che faranno la colonoscopia invasiva. Cioè, uno fa la colonoscopia virtuale, che è completamente indolore. E se c'è qualcosa, passa. E se c'è qualche cosina da andare a indagare, da andare a prelevare per conoscere, faranno. In quel caso dire a un paziente che ha un polipo, fai la colonoscopia, quasi quasi ci dice grazie, non ci dice se la faccia lei. Professore, scusi, ogni quanto bisogna fare, poi andiamo in pubblicità, perché credo che mi ricordi, ogni quanto consiglia lei di fare gli esami? Per esempio, per chi ha superato i 50 anni, facciamo un esempio, ogni quanto tempo, abbondantemente, bisogna fare gli esami, abbondantemente lo aggiungo io, è la verità, abbondantemente. No, diceva lui. Diceva lui. Eh sì, ne infatti. Ogni quanto bisogna fare gli esami, ogni quanti anni, se uno fa la gastro, per esempio adesso, fra quando dovrà rifarlo? La gastro e la colon, sì, voglio dire, facendo tutto e due, partiamo della colon. Partiamo dal colon, così parla di casa mia. Esatto. Cioè, è chiaro che se non annulla, come ci si augura, non deve ripetere l'anno dopo, può passare anche 4-5 anni, quindi non stiamo chiedendo una frequenza. Certo, ogni 6 mesi di andare a fare... No, questo sarebbe una tortura. È chiaro che se c'è un polipo asportato, trovato e asportato, è meglio dopo un anno, un anno e mezzo, a seconda anche dell'esame distologico che viene fuori da questa biopsia, monitorare per un minimo. Dopo di 50, professore, è più lento il comparire del male? Per l'età, come ha detto qualcuno, una domanda che magari le fanno. Questo è giusto, ma la mia risposta è decisamente no. Ci sono malattie lente e malattie veloci. Sta storia che uno che si ammala più tardi, può avere la malattia più... questo qui non mi baserei, anche perché chi ha la malattia se la vuole curare. E se io sapessi di avere un tumore lento, vorrei togliermelo lo stesso di come se sapessi che è veloce. Non è un attenuante a nulla la velocità o l'ha portata all'età. Né se uno ha 80 anni, non deve avere il diritto di essere curato, perché la malattia è lenta. Noi abbiamo il diritto, il dovere di curare a tutte le età, in base alle condizioni generali. Oggi abbiamo 70 anni che fanno invidia ai 40 anni. L'età biologica non è per difendere tutti noi, ma non è assolutamente l'età anagrafica. Assistiamo a delle sciagure terribili. Mi somigliava. Poi ti somigliava, sì. Pubblicità e poi qui. Ecco, torniamo vicini di casa. Credo interessante oggi il colloquio con il professor Leo. Il professor Leo diceva, non intendo però con questo, per esempio sul tumore intestino, criminalizzare un cibo in particolare, o l'alimentazione, però è fuori dubbio che diceva che un'alimentazione corretta, questo è fondamentale, ma non solo per prevenire i tumori, ma anche per vivere in maniera... Oggi c'è molta confusione. Vogliamo fare un punto? Mi piacerebbe oggi, approfittando dalla vostra presenza, di fare un punto su questa idea di benessere. Perché c'è un po' di confusione in giro. Vedo che benessere poi vengono scambiate anche dai posti più strani, come luoghi di benessere. Ecco, quindi volevo un po' fare il punto. Diciamo che comunque la gente, siamo convinti, su tutti i giornali, penso di quelli che parlano appunto in questo settore, c'è sempre la dieta, i tre chili in una settimana, tutti siamo convinti, saperi tutto dell'alimentazione, poi ti rendi conto che invece non è vero, facciamo veramente una grande confusione. E spesso e volentieri, facendo queste famose diete, magari dimagrisci di due chili, e poi dopo tre secondi, le riprendi anche con interessi. No, ma poi è curioso. Secondo me è proprio l'importante di avere un'altra. Quelli che poi sono liquidi importanti. Esatto, dei veri consigli da persone che sono degli specialisti dell'alimentazione. No, poi è curioso, io sono un giornalista, mi occupo di turismo e di benessere in particolare. Direttore di una famosa rivista, ricordiamolo, i citi, sono editore di una rivista. Una rivista si chiama Viaggi in Benessere. Eh beh, diciamo, mi fa piacere di dire le cose. Siccome io faccio tante cose, non andavrei a fare... Ah sì, scusate, non volevo citare qualcosa. No, ecco, appunto, volevo sponsorizzarmi più di tanto. No, beh, ma come sei bravo. Volevo essere cauto e contenuto nelle sponsorizzazioni personali. Sei così sobrio in tutto, dall'alimentazione al modo di porti. Che ragazzi... Eh, ma... Oh, prego, ci mancherebbe. Io scherzo con lui perché siamo amici. No, alimentazione sì. Alimentazione sì, ultimamente stiamo già attenti. Allora, io dico una cosa. I medici che vengono annualmente contattati dai giornalisti e chiedono mi dica quest'anno qual è la dieta dell'anno. E giustamente un medico dice è sempre quella dell'anno scorso. Costa un po' di più, ma è sempre... Costa un po' di più, ha cambiato nome, ma è sempre di quella... perché non è possibile che possano pensare che un dietologo ogni anno si inventi una dieta nuova per la stampa perché i giornalisti devono dire allora c'è la dieta verde, la dieta gialla, la dieta... Non esiste. La dieta è sempre la stessa. Perché una dieta deve essere personalizzata, non può essere messa su un giornale per dire va bene per tutti. No, ma queste diete appunto che si inventano, che arriva dalla merda, la dieta della birra, la dieta della patata, la dieta del gelato. E no, vogliamo dirlo, con queste famose diete. Ecco, però qui c'è... La dieta del gelato. Qui, ragazzi, però bisogna dire una verità che i giornali femminili... Allora, il lunedì ha appena alzato una pallina di gelato alla nocciola. Poi, cioè, la dieta del gelato. È la mia? Posso fare la dieta del gelato? Come? È la mia. Cioè, io... Hai questa dieta? Io credo... Non c'è la dieta del gelato, sta chiedendo. Beh, non è che il risultato sia pessimo, però... E comunque la dieta è piacevole almeno, già che uno non... Sì, non so quali risultati possa portare. il risultato... Almeno uno perde il sorriso. Non è un brutto risultato. Però adesso, cosa consiste? Scusa, questa dieta del gelato, cosa consiste? No, avevo sentito dire questa dieta del gelato che mi aveva sempre un po' incuriosito, però, o mangi solo gelato, oppure come dieta del gelato... Comunque la dieta solitamente deve essere equilibrata. La dieta del gelato, ha messo che esista... Avevo letto su un giornale dell'articolo della dieta del gelato, avevo delle grasse risate, perché comunque la dieta del gelato per attirare forse la gente a dieta del gelato... No, ma per scrivere qualcosa... Bisogna essere seri. Sì, sono seri. In materia di alimentazione, credo che professore abbiamo qua, bisogna essere seri. Quindi ci vogliono anche delle regole, ci vuole una regolamentazione, delle norme che regolino anche l'informazione. Io sono un giornalista, mi sto autocassando, però ci vorrebbero delle norme che regolano veramente anche l'informazione sotto l'aspetto salutistico, perché la gente, credetemi, ci crede, perché quando compra un giornale e vede la dieta dei cinque giorni col gelato alla vaniglia, ci sono quelli che ci credono e lo fanno. Non lo devono fare, non devono... Non l'hanno detto in tv. Ma soprattutto le ragazze, che poi sono quelle più colpite. Noi spesso e volentieri a Villa Paradiso abbiamo dei genitori che mandano i loro figli per proprio impostare delle regole di alimentazione che poi è un bagaglio che ti rimane tutta la vita. che gli altri vengono proprio a cercare di trovare una soluzione. Esatto, perché abbiamo dei ragazzi che già da giovane cominciano ad avere dei grossi problemi di, non dico di obesità, ma comunque dei grossi problemi che poi hanno una certa età dell'adolescenza, al di là del problema del peso, sul problema anche dei psicologici, perché le ragazzine così poi sono veramente molto complessate. Dunque i genitori che le mandano per far insegnare, perché i genitori solitamente non si ascoltano, detto da un medico che gli insegna delle regole proprio di base, che non hanno proprio. Diciamo che il concetto di prevenzione si sta veramente consolidando nella cultura, perché comunque sarebbe stato impensabile dieci anni fa che dei genitori si preoccupassero e mandassero a curarsi. il loro figlio e lo accompagnassero in un centro di questi, evidentemente accreditati con dei medici, con una direzione scientifica che si occupano della prevenzione, non della patologia, perché queste sono strutture che non possono evidentemente, se sono serie, occuparsi di patologie. Per le patologie evidentemente ci si rivolge a degli specialisti. Però nel concetto di prevenzione insomma è importante. Fra l'altro il ministero, credo che fu proprio il ministro Sirche che fece il libretto per combattere per un'alimentazione corretta che fu mandato in giro. questa iniziativa importante, questo sì, ma anche costituimmo, io la presidevo, la presiedo ancora, la commissione per un progetto di prevenzione proprio per questi tumori, anche per queste indagini strumentali che dicevamo prima. No, le cose si stanno muovendo su questo, siamo tutti d'accordo. L'importante è raggiungere un po' polemico ma a favore di tutti, una par condicio nella prevenzione. Cioè, il tumore dell'intestino purtroppo è stato per molti anni ignorato e non è stato posto in portosition come il tumore della mammella e altre cose perché spesso questo accade, è umano devo dire, però accade che spesso la prevenzione è legata a un nome. certi nomi e personaggi importanti, bravi che si occupano di una patologia hanno un'entratura anche nei canali di informazione. Sicuramente voglio dire noi ci stiamo occupando da 15 anni di questa malattia, io faccio solo questo, abbiamo fatto prima anche altri tipi di medicina sempre per i tumori, però non abbiamo avuto le entrature e i progressi fatti. Purtroppo lo capisco anche oggi non è una colpa molte cose non sono conosciute per noi sono già consolidate non sono state fatte ieri e oggi invitato qui questo è per noi un bagaglio culturale che ci ha portato a invertire persino la nostra presenza nel confronto del mondo oggi siamo leader noi e ogni due anni cosa che avverrà in questo anno a novembre a Milano tutto il mondo verrà a Milano per confrontarsi sulle nuove tecniche su tutti i nuovi traguardi e sul futuro che abbiamo raggiunto quindi abbiamo anche costituito questo tipo di know-how però abbiamo bisogno anche di essere conosciuti ma non per essere esaltati o meno ma perché tutto questo può ricadere nell'interesse il cittadino nel mondo della comunicazione questo sicuramente sì perché lo sappiamo benissimo per mille motivi è fondamentale l'importante è che sia una comunicazione corretta giusta l'Italia è diventata anche un centro di eccellenza ricordiamolo perché molti pensano che i centri di eccellenza si trovino che in genere il concetto ancora di mala sanità ti porta a pensare che qui non ci siano centri di eccellenza beh vede io dottore sono contento di questa domanda cioè l'Italia l'hanno fatta gli italiani che sono rimasti in Italia non quelli che se ne sono andati con tutto il rispetto per chi se ne è andato non ha questo tipo di discriminazione che forse chi è andato all'estero a lavorare è bravo e qua sono rimasti gli scemi credo che vada sfatato l'Italia è fatta di persone che hanno lavorato che lavorano sicuramente c'è qualcuno anch'io sono un emigrato dal sud al nord non era tanto diverso a quei tempi dal sud tra il nord e l'America si avevano anche disguidi quindi io direi che vanno valutati i risultati oggi direi che i mezzi di comunicazione ci portano a una vicinanza quasi istantanea ci vanno a teleconferenze si viaggia online non ci sono più i segreti di una volta cioè le terapie che si fanno in Italia sono decisamente identiche a quelle che si fanno in altri stati europei e anche oltreoceano questo per tranquillizzare la popolazione che non pensi di essere sotto curata ci sono dei problemi di comunicazione all'interno nostro stesso cioè in Italia dobbiamo sempre più omogeneizzare la qualità delle cure dell'informazione anche per questo noi abbiamo creato da ormai quasi quattro anni raggiunti questi risultati di questa nuova chirurgia per i tumori dell'intestino un master di chirurgia perché abbiamo ritenuto e ritengo che la salute di tutti non è come venderle caramelle che uno ha bisogno del brevetto e di non farselo spiare anche se poi arriva il cinese di turno e frega tutti la nostra cultura lo dicevo quella sera le nostre tradizioni sono la nostra vera ricchezza però professore il resto mi scusi ma dovete dovete anche perfezionare la comunicazione verso la stampa perché la stampa spesso trasmette dei messaggi superficiali inadeguati poco corretti e poco esplicativi molte volte però anche noi non stiamo attenti e non ce ne importa poco perché è chiaro che a un certo punto se parlare di è più comodo facendo questo messiere parlare che ne so di quello che è successo con tutto il rispetto a Albano o a sua moglie Loredana che parlare di questi temi e so perfettamente che alle 12 e mezzo magari l'audience è più forte ma è sempre di Albano benissimo e poi si preferisce evitare invece il professor Leo parla di queste cose o vuoi parlare di salute ma il problema è che quando si parla di salute o di prevenzione spesso la comunicazione attraverso i media non è non è corretta questo lo dico credo che anche tu puoi dirlo però vede dobbiamo imparare a essere anche noi più precisi sui giornali sui giornali di salute questo credo che sia sotto gli occhi di tutti sono sicuramente gli articoli molto i più letti io i giornalisti li apprezzo sono un elemento indispensabile della libertà dell'informazione sono un elemento indispensabile come sia della carta stampata che delle televisioni però spesso loro hanno due canali quello della notizia da mettere in prima pagina scoperta esplosiva e quello invece dell'informazione che invece fa cultura beh però bravo infatti è questo che sto dicendo scusate io però se per caso avessi oggi assistito una trasmissione così dove il professore io a sentire quello che vedete io io no non solo ma dopo di che riprenderai la notizia e per me questa è una notizia da prima pagina che potrebbe andare su a grandi quotidiani nazionali con su scritto il professore Emanuele dice che due punti potremmo eliminare 18.000 morti l'anno basta solo andare a fare un esame punto punto questa è la notizia perché se prendiamo con tutto il rispetto non dico neanche ma pensate ci mancherebbe altro voglio dire ma un giornale qualsiasi dico che contro ordine il grasso fa bene e va benissimo va benissimo la notizia che c'è oggi su un grande quotidiano nazionale c'è scritto così c'è scritto così c'è scritto così c'è scritto così allora i controlli del grasso fa bene ci avrei messo anche vicino se andate a fare l'esame 18.000 vite vengono salvate che qual è il tema certo che bisogna bisogna mettersi lì pensare un attimo perché questa non è informazione di salute questa è cronaca è cronaca quindi voglio dire è ma è fondamentale ma sai cosa vuol dire salvare i 50.000 che vengono toccati dal mare ma dico ma è un cioè io sono nella mia ignoranza sono rimasto colpito da questo e perché non succede secondo me ma questo è un altro discorso ma voglio dire però si può andare a fare perché la gente non va i motivi la gente va ancora a vincere ma non ci pensa ma dice ma come ho sentito io ah ma no io non posso andare a fare l'esame per la prostata uh solo a fare inserire la mano del medico nel retto è una cosa che io non sopporterei mai non va dico beh bella come dicevano i miei amici 3-3 a me pare una strunzata cioè capito guardiamolo dopo di che cioè capito cioè pubblicità e poi torniamo qua non so dirlo proprio chiaramente eccoci qua sto facendo un po' di rebelotto ma non c'è problema volevo solo presentarvi il libro di oggi che è il cucchiaio dell'abate edito da Ancora ed è un pellegrinaggio gastronomico per conventi e monasteri lo dico perché è un recitario direzioso ma è anche un viaggio che il lettore compie in visita a monasteri di tutto il mondo e mentre si leggono le ricette di piatti antichi e genuini si percepisce la bellezza del silenzio proprio di questi luoghi è un libro diverso è veramente un viaggio stradinario in Italia tra l'altro ci sono dei monasteri bellissimi degli eremi fantastici dove si mangia bene si sta in silenzio si può anche stare a dormire se uno vuole può passarci anche un periodo peraltro la Parisi è un vecchio è un vecchio convento è un vecchio convento esatto ma vedi neanche farlo apposta è il cucchiaio dell'abate allora vorrà dire che io ti faccio Joel questo omaggio ti ringrazio io so che comunque tutti i preti i reverendi sono dei grandi intenditori di cucina in Francia tutti i camembert portano un grande reverendo tutto un bello cicciotto si perché si sa che sono dei grandi conoscitori a me fa impazzire come parlano i francesi io divento pazzo io solo come dice lei non parlo bene non dice nessuno guarda scusami puoi ridere camembert 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 ma potremmo scusa ma non abbiamo un omaggio a una francese vera una francese vera proprio vera autentica che però è italiana perché ormai io ho tanti anni in Italia ma ha perso sono francesi sono francesi no i francesi si tengono molto dico nel senso che sì ma nel senso che ha tanti anni in Italia ma che evidentemente ama la sua terra e cosa ha detto una canzone francese di? no ce lo deve dire lei dopo la fine surprise ah va bene come volete perfetto Mario Pinn c'è un bel romanzo c'è une belle histoire c'è une romance d'aujourd'hui il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard elle le sondait dans le midi le midi ils se sont trouvés au bord du chemin sur l'automne toutes les vacances c'était sans doute un jour de chance ils avaient le ciel à portée de mer un cadeau de la providence alors pourquoi penser au lendemain il se sont cachés dans un grand champ de bleu se laissés porter par l'écurant se sont racontés leur vie qui commençait il n'était pas encore que des enfants des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin sous l'autoroute des vacances c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leur mer comment cueillir la providence réfusant au bon c'est au lendemain il rentrait chez lui là-haut le brouillard et le descendait dans le midi le midi ils se sont quittés au bord du matin sous l'automne des vacances c'était ça le rangé de chance qui reprit alors chacun leur chemin s'allouer la providence et ce fait c'est un signe de la main nanana nanana ma un signe un signe un signe Che bella questa canzone È un bel omaggio Te lo ricordi chi la cantava? Michel Fuguet Michel Fuguet Pubblicità e poi torniamo qua Allora eccoci qui Bentornati ancora Salutiamo anche gli amici che ci seguono Durante la replica della notte Vi ricordo ancora l'892 di Sky Il canale in chiaro Dove sateritare Vediamo adesso le offerte di oggi Vediamole subito Sono, eccola qua, le offerte di lavoro Cinque operai generici Attenzione, offerte di lavoro di oggi Età massima 35 anni Si richiede minima esperienza di produzione e manutenzione Dalla durata del contratto Ai due mesi con possibilità di proroghe La zona è Milano-Interland Inviare il curriculum a De Lucia Chiocciola a Genin.it E questa è l'iniziativa con il Gennaro Industriell Vi ricordo che dall'inizio dello scorso anno Sono più di mille le persone Che o a tempo indeterminato O part time O con lavoro flessibile Hanno avuto la possibilità Comunque di trovare un'opportunità Bene, ritorniamo qua Parliamo con Alessandra Rovida Tra l'altro vi dobbiamo dare una notizia Mangiare piano a 50 anni Si pesa come a 20 L'ho presa dal Corriere della Sera Dice un lavoro di ricercatori giapponesi Parlevamo prima Che i giapponesi avevano un problema Stumore l'esocco perché bevevano E hanno dei grandi chirurgi Adesso ci sono dei ricercatori Che hanno dimostrato Che per mantenere negli anni Il proprio peso È necessario mangiare lentamente Perché sì, perché Perché sì, è vero Ma che cosa Ma questo non è una scoperta Però tutti Però noi mangiamo sempre di fretta Esatto Esatto Però vale che è un amico Da uno dei più prestigiosi giornali italiani Dice Chi d'abitudine mangia in fretta A 40-50 anni Ma questo si sa Vi la partite Perché ha 100 Ma qua la gente non lo sa A 40-50 anni Pesa decisamente più che a 20 anni Se uno invece ha sempre mangiato lentamente Riesce a mantenere il peso dei 20 anni Anche a 40-50 Ma io 40 anni fa Professore può essere Io lo chiedo a lei Sono di gentile Perché il professor Maggio Ha già detto la sua Volevo sentire anche quella Non l'hai fatto Il professor Leo Non ti ha fatto Io non ho detto la mia Ho provato a dire la mia Sembriamo Sembriamo Stare olio Ho fatto i tuoi divoli Ho talmente stimo e effetto Nei confronti Non si divertono Comunque è una grande educazione Perché spesso e volentieri La gente proprio Noi facciamo fatica A farli mangiare piano Perché si arrabbiano Con i camerieri Perché non li servono Abbastanza velocemente E sono da noi in vacanza Non hanno niente Che fare E perché c'è questa frenuzione Quello perché Mangiare veloce In mezz'ora devono assolutamente Avere mangiato Quello perché hanno fame Una cosa di E poi delle volte Scusate Vuol dire che noi Dobbiamo avere tutto preparato E niente al momento Dobbiamo dare anche la possibilità Di fare delle cose Fatte al momento Facciamo tutto Tutto già preparato E allora invece proprio Si arrabbiano addirittura Mangiate piano E non guardate la televisione Mangiando Tranne vicini di casa Evidentemente Ma la sera Per esempio Dovete Ogni tento ne sparo Di certo Ho fin vergogna Cioè dopo Sento un senso di vergogna E le stupidaggine Che dico Ho un senso del limite Ma al momento Non ce ne se ne rende conto Al momento Non ce ne rende conto Al momento Non ce ne rende conto No ma invece Ci possono essere Gli spunti utili Alessandra Per esempio oggi Ho visto che ci ha portato Dell'argilla Ecco Perché argilla E la terra Possono essere Sapete che Lei è la nostra Naturoigienista L'Eccellenza Cosa serve l'argilla Oltre che L'argilla È servita a qualcuno Per creare Sì È stata utilizzata In Egitto Per momificare Ai tempi I defunti Perché appunto È talmente sterile Che E che comunque Mantiene bene intatto Il tutto quanto E poi ha un potere Molto forte Di assorbimento Perciò noi Lo possiamo applicare Sì sulle ferite Come Cataplasmi Attenzione No ferite Anche se vi siete So avete avuto Un incente grave No vabbè Parliamo di ferite Parliamo della sbucciatura Sì certo Sì Infatti Mi sono tagliato Un dito Infatti No perché A casa Mi sono spiegati Bene perché Io stesso È giusto o no Sì certo Comunque Ecco appunto Si utilizza Appunto Mettendone un pochino Insieme all'acqua E si fa Una specie di impiastro E poi si viene Ecco viene applicata Tramite comunque Un intermezzo Di garza E questa riesce appunto A cercare di cicatrizzare Ad assorbire Quelle che potrebbero essere Magari Delle infiammazioni Invece Usare un prodotto Chimico Sulle cose Viene ecco Viene utilizzata molto bene Per esempio Sulla foruncolosi del viso Questi belli impiastri Magari mescolato Con un succo di limone Il succo di limone Fa da stringente Questo comunque Ha un potere appunto Ripeto Assorbente Perché È radioattiva Ma radioattiva A livello naturale Vale a dire È uno scioglimento Appunto Di silicati Di alluminio E Ha assorbito Quelle che potevano essere Le radiazioni Del sole Il vento E quanto ce n'è Perciò Ha questo potere Appunto Di Naturale E assorbe Quelle che potrebbero essere Tutti i tipi di infiammazione Perciò Che ne so Ho male a un ginocchio Posso benissimo Fare questo impiastro Applicarlo Puoi metterci magari Una bella pezza di lana E bisogna tenerla Non più di un quarto d'ora Scusi Dottor Esteroidio Lo chiedo una cosa Queste esperienze Risalgono Perché Risalgono a Eh sì Perché allora Non c'era mica Non so Il cicatrene di turno Che trovi in farmacia Dovevi Ben trovare Qualche sistema Questo Ecco Quello sui fruncoli Che so Soprattutto i giovani I ragazzini Hanno il problema Infatti Si fanno Questi Cioè Si scioglie con un po' d'acqua La tenera Non troppo liquida E poi Ci si mette Come una maschera Una maschera Che si fa E questo aiuta molto E poi ci si mette Pure anche il limone Oppure la scorza Addirittura del limone E poi si applica E questo Specialmente poi Di primavera Grazie al vento Grazie poi al sole E questa che ha questo potere Cicatrizzante Chiude questi fruncoli E oltretutto Assorbe Quelle che potrebbero essere Le infiammazioni interne A me affascina molto Questa cosa qua Perché penso sempre Che il signore Alla natura Ha fidato Ma se noi guardiamo la terra La terra è una E la terra è affidato Sì C'è una cosa molto semplice Che si può fare in casa Con dei risultati Infatti ma Ma voglio dire La terra in sé È proprio una Posso dire Beh ci sono popoli Che si curano Con Scusi Questo si può anche ingerire Per esempio Che non sanno Cos'è la medicina Di rinnovamento A livello di gastriti Cioè tutte le mucose Allora si prendono Due cucchiaini di argilla Cucchiaini da caffè Si immergono nell'acqua Con un bicchier d'acqua E si lasciano posare Sei o otto ore Dopodiché La parte alta Che rimane Che sembra una cosa Schiumosa Questa è il gel Il gel dell'argilla Questa va proprio A rinfrescare Tutte le forme appunto Di mucose Sia della bocca Che dell'esofogo E dello stomaco Ciò va ingerito Volevo farvi una domanda Perstando con il professor Leo Ma anche di esperti Nel settore Leggevo di recente Che in Italia Come in altri paesi Non solo una mania Ma voglio dire C'è molta gente Che si affida A curarsi In maniera naturale Per esempio Su queste cose semplici Evidentemente Meglio sempre Prima andare dal medico Alessandra stessa Lo dice Prima si va dal medico Poi può aiutare Ci sono queste cose banali Se vogliamo Perché come mai C'è Cos'è Una riscoperta Perché è un fatto Solo legato a una moda O perché si è capito Che dalla natura Come dicevamo prima Ci può essere un aiuto Certo La natura Non credo Posso studiare L'antibiotico O la penicillina O quello che c'è Però Tutto dosato Può essere questo Che dalla natura Può essere che forse Non lo sappiamo ancora Che cresce dalla natura Si può avere anche L'antibiotico Professore Facciamo il giro Di risoletta Questa è una distinzione Fittizia Giustamente Le penicilline Venivano dalle muffe Voglio dire Non è che venissero Da laboratori particolari Il più potente Antitumorale Scoperto in Italia Che ormai resiste Da più di 30 anni Che è la daunorubicina È stata presa Da un'alga Del gargano Infatti si chiama Daunorubicina Un altro potente Viene dal platino Sono sempre elementi naturali Cioè non ci aspettiamo Che venga qualcosa Da Giunone O da Marte Comunque il mondo Contiene tutti gli elementi Per curare se stesso O perché Per la sopravvivenza Per la sopravvivenza Che poi si vogliano Sintetizzare In laboratorio In maniera Anche per abbassare i costi O per trovare più disponibilità A queste cose Ma si parte sempre Da elementi naturali Non vengono fuori Il problema è di non Il limite Tra l'attendibilità O meno Ma io non sono mai Stato contrario A sostanze naturali Che ripercorrevano Le stesse scoperte Scientifiche Cosiddette Ufficiali Questo spesso è un dissidio Più economico Che altro Per cui finiamo Anche in cose Molto delicate Che alla fine Credo che Professore La serietà Stia nel Ammettere I propri limiti I propri limiti No Beh certo Voglio dire Chi fa medicina preventiva Attraverso Forme di medicina alternativa Come l'omeopatia Come la fitoterapia Come altre forme Se lo fa seriamente Fino al punto in cui può arrivare Beh Benvenga Secondo me In questo senso La medicina tradizionale Che però Attenzione Per anni Ha ostacolato Ostacolato Il cammino Di quest'altra Di quest'altra Area Dedicata Alla medicina alternativa Debba ammettere Che la medicina alternativa Ha un suo valore Come la medicina alternativa Debba ammettere Che la medicina tradizionale Debba avere il suo valore Credo che ci voglia Un equilibrio In questo senso Diceva lui Che toccava Desimenti delicati Degli aspetti delicati Quello che manca Un po' Ma non solo in Italia È l'istituto del controllo Cioè Se ci sono Delle proposte Che hanno Delle basi serie Che hanno Allora Ci deve essere Una commissione seria Che sia al di fuori Dei giochi politici O meno Ed economici Ed economici Sono successi recentemente Un po' di anni fa Voglio dire Anche polemiche Su malattie tumorali Quindi dove Alla fine La gente non si aspettava Lo scontro politico Ma si aspettava Di sapere Se una cosa funzionava Perché quando si gioca Sulla pelle delle persone Che l'unica cosa Che conta Tutto il resto Sono balle Perché ridiamo Finché le cose Non accadono Poi dopo Tutto diventa Secondario E allora Direi che la gente Diventa anche Giudice di se stessa Nel senso Che non possiamo Andare a dire Non possiamo Andare a dire Che certe cose Sono efficaci Quando uno Ha sotto mano Il parente Che sta morendo Proprio Con quelle cure Efficaci No Sorridevo Professore Mi scusi Perché Mi viene in mente Quando lei ha parlato Di scontri politici Beh non partiti Cioè Di un genere No mi viene in mente Che l'altro giorno Ero su un taxi A Milano E il tassista Diceva Quelli lì Se mi hanno sentito In televisione E mi vuoi risavere Se fanno la quarta corsia Sulla Bergamo Perché poi Cioè Certo Perché alla fine Il concetto è questo E la richiesta di competenza Fammi sapere Che cosa succede Che cosa succede Realmente Il succo E quello che viene applicato Poi c'è Un'ultima Un'ultima novità Che ci darà il professore Ma la teniamo alla fine Perché C'è un vaccino Ne parliamo alla fine Professore Come notizia finale La diamo Come notizia finale Dicevamo della bellezza Anche una bella Come Katia Vuole essere sempre più bella No? Sì Si cerca Per un altro mantenersi Per un altro mantenersi Ci prova Ci prova Sì Alla ricerca di che cosa No poi ti spiego Per che ti faccio Alla ricerca di che cosa Già una Allora io sono Un caso qua a parte Non vorrei dirti Cioè non ricerco Cioè sono abbastanza Secondo me il benessere È interiore Quindi se uno si sente bene Interiormente Sta molto bene Anche con se stesso Per quello che è Fisicamente Questa grossa ricerca Dell'essere belli a tutti i costi Fisicamente Fisicamente quando magari dentro Si è Un disastro Io sono molto Contro Questa moda Che adesso È apparire 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 E poi sono tutti tristi Chi fa la dieta Non sorride Perché non può mangiare La brioche Che passa davanti al bar E la vuole a tutti i costi Quindi non sorride La donna che comunque Deve andare in palestra Tre ore Al pomeriggio Che non è un divertimento Per essere bella a tutti i costi È infelice Poi dopo il marito È costretto a mangiare In scatola la sera Il marito mangia in scatola E magari la tradisce anche Con quella con dieci chili in più Che però è piena di vita E sorride Quindi Io sono molto Contro queste cose Joelle Volevo chiederle Ma la C'è una confusione oggi Sul concetto di benessere No? Vediamo che ogni tanto E lo leggiamo purtroppo Vengono combinate anche Dei guai Alle persone Che si affidano All'improvviso A far addirittura Degli interventi di chirurgia In posti Che non hanno nulla Di specializzato Dove addirittura Non c'è un medico O dire Sì beh Io posso parlare Non di chirurgia Ma di centri Come Villa Paradiso Certo Ci sono centri Dove noi Per esempio A Villa Paradiso Abbiamo È un po' diverso Perché è molto Basato sulla parte medica Perché anche un massaggio Può fare male Se non è fatto da un esperto Credo no? Nessuno fa i miracoli Verissimo Io posso dire che Tante volte a Villa Paradiso Ma come mai Per esempio Avete dei prezzi Abbastanza alti Noi abbiamo dei professionisti E si sa che i professionisti Hanno un costo Noi abbiamo Costantemente Otto medici I medici Se hanno un costo Come tutti Esatto Una brava estetista Un bravo fisioterapista Eccetera Non abbiamo Non abbiamo Ragazzini Abbiamo delle persone Che hanno Comunque Un'esperienza Ed è ovvio Voglio dire che Però Diciamo che Sono 18 anni Che siamo Sull'onda Di questo Settore E fino adesso Sa perché gliel'ho chiesto Perché ho letto Per esempio La cronaca Ce l'ha raccontato Anche di recente Arriture di persone Che vanno a fare Anche piccoli interventi Di riposizione Che si aggiustano Che poi Vengono fuori Dei drammi I drammi veri Ma perché ci sono In giro un sacco Di cialtroni Perché le persone Spesso l'entiere Hanno voglia appunto Di avere Questi grandi risultati Non hanno Le possibilità O la pazienza Di aspettare Perché Diceva prima Katia Quanto costa Stare in forma Cioè Costa anche una fatica Cioè voglio dire Vole andare al palestra E fare movimento Deve correre Deve dire l'aria aperta È un sacrificio È un sacrificio Il professore Parlava prima Di istituzioni Bene È ora di legiferare In materia Perché Il benessere Oggi Ormai È una realtà Tant'è che La cronaca Se ci consegna Questi 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 episodi Tragici Di persone Che si sottopongono A interventi Minili Anche lifting E ci lasciano Le penne Beh evidentemente Forse È arrivato Il momento Di legiferare In materia Ma duramente Secondo me E poi È preoccupante Questa cosa Cesare Perché comunque C'è secondo me Un campanello D'allarme Grossissimo C'è la persona Che ricerca Il benessere Esteriore E qui vale a dire Che si sta sempre Meno bene Guardando dentro A me spaventa Molto questa cosa Anche in questo caso Il chirurgo estetico Deve poter dire Alla paziente Che può Raggiungere Dei risultati Fino a un certo punto E poi si deve Si deve fermare Tant'è che Quelli che non si fermano Con una semplice Riposizione Non ti cambia E diventerà il coraggio E' questo che ti dicevo Si creano anche Dei traumi Molto grossi Secondo me Se io mi dovessi alzare Tutto ad un tratto E non ho più Questo zigomo O non ho più Questo naso Io non mi riconoscerei Come Katia La cosa Secondo me Di persone che arrivano Che dicono Io voglio assomigliare A tale persona E dunque Questo è pericolosissimo La belletta dell'essere umano Comunque è l'unicità Di ogni singolo Cioè il fatto che adesso Il labbro deve essere in quel modo Lo zigomo in quello Siamo tutti uguali E' una cosa che a me spaventa Tant'è Sì bisogna anche capire Chi non ha la fortuna Di essere Particolarmente Non che voglia giustificare Soprattutto quando questo Viene in ragazze Di diciamo Io capisco Una deformazione Importante Ma qua non si tratta Adesso non si ricorda Alla chirurgia plastica Per delle cose Veramente importanti Cioè un conto Una persona nasce Con un naso devastante L'abbiamo visto L'abbiamo visto Addirittura permette Di non respirare bene Ma Io su quelle cose Anche quelle belle Voglio dire A 18 anni Chiedono Adesso ci sono ragazze Bellissime Di 20 anni Ma bellissime Secondo me Ma forse belle anche Perché hanno quel piccolo difetto Che fa fascino comunque Sì però deve essere accettato Se questo difetto È una cosa che non viene accettato Magari con un piccolo intervento Di rinoplastica Può veramente cambiarti la vita Perché se questo diventa per te Un complesso Ma a me spaventa il fatto che Cambiando un naso Ti cambi la vita Sì ma ogni cosa Perché la vita secondo me È Con elicone Si cambia in meglio La vita Stavo dicendo che Il chirurgo deve avere Comunque Non è Non è Il bel naso Vuole apparire Non è assolutamente Perché io ho veramente Dei miei clienti Delle mie clienti Che sono veramente diventate Dei mostri Allora dico ma Questo chirurgo Che ha fatto questa cosa qui Doveva Veramente dire Signora Basta A questo punto qui A noi piace invece pensare Prima di andare in pubblicità Che la signora di Amiens Ha avuto il viso Rifatto Quella è una bella cosa Dopo che gliel'avevano devastata Ecco quella Quando la scienza Arriva a fare questo Devo dire che ci riconciglia Anche su certe esigenze Che il pubblico ha E la gente ha Ha sicuramente E addirittura L'accettazione Grande evento Ecco Quello no professore Quello mi è sembrato Una cosa di grande speranza E vederla in televisione L'altro giorno Mi avevo detto Guarda che bravi Se c'è gente Come il professor Leo e come altri In vari settori Che dedicano la loro vita Allo studio La ricerca Questo allarga il cuore Ci fa dire che l'uomo Infatti il problema Non è curarci noi A replicare loro Eh ma Professore Lei ce l'ha Un allievo Lei è giovane Ma Perché il problema Con i grandi E che si dice Beh Sarà un'equipe È ovvio No guardi Questo sarebbe Se parlassi Sarebbe una grande delusione Siamo pochissimi Ah sì Ah sì Purtroppo Questo è uno dei grossi problemi Il motivo per cui abbiamo fatto questa scuola Perché magari Ci sia da noi Una venuta di chirurghe Ad aiutarci E ad apprendere Quindi si creano questi Non è Non è ovvio Se io penso Se io penso Quello che abbiamo fatto In questi anni Con quali mezzi Non per vittimismo Ma per realtà Infatti continuiamo lo stesso È più di prima La proporzione Tra i risultati E gli investimenti Che ci sono stati dedicati Senza cattiveri Ma per fatti istituzionali Non è sicuramente a vantaggio Io credo che Quando parlavamo Di risultati Ci vorrebbe qualcuno Che seguisse i risultati Se i risultati sono buoni Vanno incentivati E incrementati Non c'è dubbio Invece no C'è una parificazione Tra chi fa e chi non fa E questo purtroppo Non è un buon motore Per la vita E non solo Non dare i soldi Ma vedere come Vengono impiegati Certe volte Perché vediamo Delle strutture Lo scopriamo Lo raccontavamo Nei giorni scorsi Lo scopriamo Solitamente Attraverso trasmissioni Come strisciata notizia No? Di strutture Magari portate Quasi alla fine Completamente abbandonate Uno spreco Eccezionale Quando ci sarebbe bisogno Invece da aiutare Speriamo che il nostro paese Cresca sempre di più Io sono ottimista E dico sempre che si cresce Soprattutto se i giovani Mi fa piacere comunque A prescindere Può essere opinabile Quello che ha detto Katia Ma mi fa piacere Quello che abbia voluto Sottolineare Come un sentimento suo Io se posso permettermi Aspetta un secondo In pubblicità Torniamo e partiamo Esattamente da te Volevi dargli un aggancio? Volevi dargli solo un aggancio Tu dici che sei ottimista Io purtroppo Devo dire Da quello che vedo Negli ultimi giorni In televisione Soprattutto A livello politico Non mi sento Di essere molto ottimista No io sono ottimista Perché questo paese Ha dimostrato Che nei momenti Diffici Che siano gli italiani Che fanno delle cose Ha trovato sempre Certamente Ma io sono ottimista I giovani cresceranno Io credo Che ci siano dei giovani Che devono essere evidentemente Come ricordava Don Piero Gelmini Proprio in queste ore Qualcuno purtroppo Entra in una spirale Per cui sono là Alla sera li vedi Quando escono Abbraccio Dalle discoteche Però ci sono anche dei giovani Che vanno a ricercare E la mia speranza È un fortissimo ritorno Esatto Pubblicità Poi torniamo qui Ecco torniamo qui in studio Voglio presentarvi Uscito in edicola Il grande giornale dei ragazzi Il giornalino Un pugno di vitamina G Devo dire Bravo Don Tarsia Don Antonio Tarsia Direttore responsabile Il suo team Per aver fatto ancora Un numero fortissimo Del giornalino Lo dico ai genitori Leggete i vostri figli Per stare bene Bisogna alimentarsi anche dentro Oltre a stare in forma Oggi ce l'ha detto ancora Joel Vassal Danilo Maggi Alessandra Rovida Questo è bello Però leggere E se lo fate Con i vostri figli Avete a guadagnare In abbinata Uno dei classici Della letteratura per ragazzi Jonathan Swift I viaggi di Gulliver La grande letteratura A fumetti E dentro ci sono Dei disegni bellissimi Dei fumetti Fatti veramente bene Grandissimi disegnatori E quindi una bella abbinata Voglio anche ricordarvi Che la vita va svelenita Ecco stiamo vedendo ancora Qualche immagine bella È la copertina del giornalino Bravo Don Antonio Ti aspettiamo qua La prossima settimana magari Voglio ricordarvi Danilo Maggi Claudio Pina Sveleni Ironiche letture Per riconoscersi La prefazione è di Cado Castellaneta Lo potete trovare Lo ricordiamo Solo sul sito www.artedivivere.com www.artedivivere.com Anche un'arte vivere Un'arte Saper vivere Soprattutto Artedivivere.com E voglio ricordare ancora Invece che Il bellissimo libro In fila per sei Con il resto di due Che L'associazione per la ricerca europea In chirurgia oncologica Diretta E presieduta Dal professore Armando Leo Potete sposare Una causa importante Che è quella Di dare All'infanzia Al tempo stesso Una totela Dell'innocenza Dei bambini E dell'immagine La loro fantasia Questo libro Proprio è dedicato A Giovanni Benecino I bambini A tutti coloro Che regalano un minuto Un mese O tutta la vita A proteggere Il loro magico mondo E questo è il sito www.areco.it E Areco Sta proprio Dove si può comprare il libro Dove si può comprare il libro Sta proprio per l'associazione Per la ricerca europea In chirurgia oncologica Tra l'altro Sarebbe bellissimo Caro Danilo Se sulla tua Prestigiosissima rivista È già deciso È già deciso Perfetto Tu potessi segnalare Quest'iniziativa Con grande piacere Con il professor Letti Il professor Leo A cui sto Tanto a cuore a tutti noi Con grande piacere Vorrei Professore allora L'ultima notizia È su un vaccino Questo la diamo Sì la diamo Anche se già È in corso Però così lo sanno Cioè la La nostra dedizione A curare solo questa malattia Ci ha portato ai grandi numeri A dire quello che è sotto gli occhi Di tutti Che la stessa malattia Si comporta in maniera diversa Spesso per fortuna In senso buono Rispetto all'apparente Uguale malattia Abbiamo studiato Già da un po' di tempo Pubblicato E abbiamo individuato Una proteina Che faceva Che fa da carburante Allo sviluppo del tumore E abbiamo fatto costruire Se questo termine Si può usare Artigianalmente Questo vaccino curativo Non preventivo Per evitare equivoci E lo stiamo utilizzando In tutti questi casi Dove si ripresenta La malattia del tumore A retto Che hanno già fatto Le altre terapie Purtroppo in successo E direi che siamo A un ottimo punto Di risultati Già sull'uomo Perché lo stiamo già Ci hanno già autorizzato La sperimentazione Sull'uomo E direi che questa È veramente Credetemi Una frontiera Estremamente importante Che ci dà Grande ottimismo Questo lo dico anche Perché voglio ringraziare Tutti quelli Che ci hanno permesso Di fare questo Perché questo vaccino È stato comprato Con i soldi E con i fondi Dell'associazione Grazie al contributo Di pazienti stessi E ringrazio anche Quelli che hanno detto Che non rientravamo Nei loro interessi Perché è dedicato A chiunque Dovesse star male Mi sento professore Di farle un applauso Davvero È un onore Professore Grazie Sai Mario Volevo dedicare Alla mia amica Alessandra I migliori anni Della nostra vita Purtroppo Siamo 10 secondi Possiamo farlo 10 secondi Stringimi forte Perché questa notte Non è infinita I migliori anni Della nostra vita Auguri Alessandra Rovida Grazie Allora Grazie professore Grazie a Gioed Vassal Grazie a Nilo Maggi Grazie a Katia Grazie Alessandra Grazie veramente A professore Leo La linea è al mitico Paolo Gianrusso Ciao Buongiorno direttore Buongiorno 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 Tutto bene Tutto bene E voi? Bene grazie Buon lavoro A te A tutta la redazione E a te per le ultime notizie Grazie Paolo Grazie a Mario Pinna Ma di che cosa Grazie a voi Grazie veramente Alla prossima Grazie a te Grande Speriamo presto Dunque l'apertura del nostro telegiornale alle 18.45 Nel TGV sera dunque Sarà dedicata a due fatti di cronaca Che le forze dell'ordine e i carabinieri in particolare Hanno risolto brillantemente in poco tempo Intanto vi diciamo che i carabinieri di Milano Hanno risolto il caso dell'omicidio di Fabio Benedetto La donna di 50 anni uccisa ieri a botte in Via Lomazzo Appunto a Milano Dopo 12 ore di interrogatorio E' stato fermato il genero Francesco Palmisano di 31 anni Ritenuto responsabile della morte della suocera Ci sarà l'autopsia poi a stabilire definitivamente La responsabilità di quanto già i carabinieri hanno accertato I carabinieri di Monza dal canto loro invece Hanno risolto il caso di un altro omicidio Quello avvenuto il 3 febbraio scorso a Paderno Dugnano Dove fu ucciso un marocchino L'autore del delitto è un 36enne albanese Irregolare Per lui l'accusa è di omicidio volontario Il movente di questo delitto Una banale lite per motivi di pieno di benzina A un distributore Parleremo anche degli interventi che hanno fatto L'eurodeputato e responsabile economico della Margherita Enrico Letta E il presidente della provincia di Milano Filippo Penati Sulle questioni politiche delle proteste globale In occasione delle ormai prossime Olimpiadi di Torino Del confronto Berlusconi Prodi Di cui si continua a parlare Che registra quotidiani aggiornamenti e prese di posizione Parleremo anche di un'iniziativa interessante e importante Della regione Lombardia Che ha deciso di premiare i negozi storici della nostra regione Con una testata e una serie di iniziative Proprio per quegli esercizi commerciali che vantano una storia Almeno di 50 anni Sentiremo i consiglieri promotori dell'iniziativa Parleremo anche di un aspetto occupazionale Molto importante e purtroppo negativo Le multinazionali presenti In particolare nel territorio Lombardo Stanno continuando a tagliare produzioni E soprattutto a delocalizzare queste stesse produzioni Comporta cassa integrazione, mobilità, tagli di posti di lavoro Per tanti lavoratori Lombardi La CISL offre il quadro della situazione E un'analisi approfondita Ecco di questo e di altro ancora Nel Tg della sera alle 18.45 E della notte alle 24 Insieme andiamo a vedere che tempo farà Per le prossime ore sulla Lombardia Venerdì 10 febbraio ancora condizione di bel tempo Su tutti i settori con clima limpido e secco Qualche nuvola in più solo sui settori alpini più settentrionali Le temperature saranno in calo A Milano minima di meno 2, massima di 8 All'Ecco la minima sarà di 0 gradi La massima raggiungerà gli 8 gradi Previsioni elaborate su datimeteolive.it Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana Il settimanale della famiglia Il settimanale della famiglia